Cultura, lavoro, sviluppo, ricostruiamo il futuro è lo slogan di Giampaolo Vietri, candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. Abbiamo già precedentemente analizzato il primo punto, il primo aspetto, la cultura, passiamo al lavoro. Il lavoro è un altro punto fondamentale ed è una priorità per ciascun uomo. Purtroppo oggi troppe persone sono ancora senza un'occupazione lavorativa. La politica deve difendere i posti di lavoro esistenti, deve crearne dei nuovi e in questa direzione la regione può fare molto. Come? Intanto finanziando di più e meglio il settore della formazione, facendo dei concorsi seri, riconoscendo delle premialità fiscali a quelle aziende che intendono assumere e distribuendo risorse per i giovani e le donne che vogliono avviare delle start-up risorse a fondo perduto. Inoltre credo che la politica debba mettere in campo delle azioni concrete per l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili. Ci sono poi inoltre molte linee di finanziamento che rappresentano delle vere e proprie opportunità che la regione deve intercettare per finanziare i progetti di innovazione, progetti di innovazione dei sistemi produttivi delle imprese che vogliono riconvertire la propria produzione o innovarsi per rilanciare la propria competitività sul mercato. Penso che inoltre la regione deve riflettere sia su quella che è la pressione tributaria regionale sia quelle che sono le norme se vogliamo realmente sostenere il commercio, l'artigianato, le imprese di servizi ma anche il settore agricolo, quello della pesca e della mitilicoltura. Parallelamente a questo io credo che la regione debba finanziare progetti di internalizzazione delle nostre imprese per consentire alle nostre aziende di commercializzare i propri prodotti e portare le proprie professionalità non solo sul mercato locale, regionale e nazionale ma anche sui mercati esteri. Credo inoltre che la regione deve facilitare l'arrivo su questo territorio delle grandi imprese quelle grandi imprese che danno garanzia di rispettare le norme ambientali quelle grandi imprese che danno garanzia di generare sul territorio in loco nuovi indotti economici e ricadute occupazionali. Il lavoro è per me un imperativo categorico e sarà al centro del mio impegno in regione.